Spunta mafia capitale tra le ipotesi seguite nell'inchiesta sul max imbroglio dei furti di energia elettrica in cui sono indagate 133 persone. È una delle piste a cui è giunta la squadra mobile che si sta occupando del caso. Il nome di Massimo Carminati, infatti, è apparso in un'informativa dei poliziotti della sezione Reati. Un nome ma anche un contesto generale che desta sorpresa. Dalle ricostruzioni fatte dagli investigatori, infatti, emerge che alcuni agenti in servizio alla Polmare cercavano di risparmiare sulle bollette e che per questo avevano messo su un gruppetto di amici colleghi con a capo sicuramente Benedetto Marsala, così come si legge nel documento. Proprio Marsala sarebbe stato l'uomo di tramite Collino Caruso, considerato a tutti gli effetti il capo, l'organizzatore e il promotore del max imbroglio perpetrato ai danni dell'Enel. Era lui a organizzare tutte le fasi della truffa, dallo smontaggio del contatore al trasporto in un laboratorio dentro pacchi postali, fino alla manomissione e alla ricollocazione. Il tecnico otteneva la pendrive contenente il libro Mastro dei Clienti, mentre altri 1.500 furbetti del contatore venivano serviti da lui con operazioni veloci e discrete. In questo modo Marsala era capace di abbattere i consumi di energia fino al 99,99%. Ma non c'era solo la furbizia. L'ipotesi investigativa sui legami criminali, infatti, è ancora oggetto di approfondimento. Difficile quantificare il danno arrecato all'azienda Enel, che con le sue denunce ha provocato l'apertura del fascicolo in mano ai sostituti procuratori Maurizio Agnello, Renza Crescon e Gaetano Guardi. Ma si tratta di qualche milione di euro, dato che i furti sono andati avanti, complessivamente per anni e anni, per migliaia e migliaia di kilowattore rubati con distrezze e abilità.